Torna mattino 5 Vede come sei bene là Guarda, guarda In diretta ogni mattina con le ultime notizie in tempo reale Lo stabilimento che destino ha Dicono che si sposeranno nuovamente Sembra che ci sia anche già la data Tra pochissimo andremo anche al Biminale Purtroppo il maltempo è arrivato anche altrove Gli approfondimenti, le rubriche e tante novità Mica è finita qui, ma va Federica Panicucci, Francesco Vecchi Mattino 5 Dal 9 settembre su Canale 5 Grazie a tutti